musica 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 non c'è parlare con chissi non c'è niente di riccio a chissi musica 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 Vinceremo sempre che... Basta, mamma. È mortificante. Quando tu racconti la tua storia, non è più mortificante. Io sono orgoglioso di Dio. Lia, lo devi fare per te. Mi pare che le cose non si muovano, invece le cose si muovono. Sei pronta? Tu sei pronta?